Un nuovo duro colpo all'Andrangheta è stato inferto stamane dalla Guardia di Finanza di Genova. Grazie ad una brillante operazione eseguita dagli uomini delle forze dell'ordine, è stato infatti arrestato Giuseppe Bellocco, 28 anni, figlio del boss Gregorio di Rosarno. L'uomo risultava latitante dall'agosto 2014, precisamente dal momento in cui scattò l'operazione denominata Sant'Anna. Il blitz permise di sgominare l'omonima potente cosca della piana di Gioia Tauro con l'arresto di 24 persone. Il giovane Rosarnese, che è ritenuto dagli inquirenti uno dei reggenti della famiglia mafiosa, è stato colto in flagranza mentre all'interno di un'autovettura trasportava un carico di quasi 150 kg di cocaina, prelevati da un container proveniente dalla Colombia. Bellocco è stato trovato in possesso di documenti falsi. Insieme a Giuseppe Bellocco, nel corso dell'operazione antidroga, sono state arrestate due persone, un abruzzese e un genovese, residenti da anni in Colombia. I tre sono stati arrestati dopo un inseguimento nelle vie di Sturla, nel pomeriggio di ieri. I finanziari, infatti, avrebbero intimato l'alta Lapanda sulla quale viaggiavano, ma l'auto è fuggita fino ad entrare in una strada senza uscita, dove i tre sono stati fermati. Nel corso dell'operazione antidroga sono rimasti feriti tre finanziari e contusi, due degli arrestati. L'operazione ha consentito di confermare la particolare manifestazione di interesse da parte di organizzazioni criminali nei confronti degli scali portuali liguri. Secondo le prime stime, al dettaglio, il valore della droga sequestrata ammonterebbe a circa 40 milioni di euro.